Altro segno per la settimana che va dal 25 al 31. Natale, settimana di Natale, per cui saranno un po' più brevi del solito perché non vorrei farli il giorno di Natale, non si fanno. Allora, dunque vediamo qual è il prossimo segno, il sesto segno della settimana, qual è? Il Capricorno, diritto, il Capricorno, segno di terra, il segno che ha in questo momento il sole dalla sua parte, sole e Plutone si sono incontrati in questo momento, si stanno incontrando in Capricorno. Occhio a tutto quello che ha a che fare con la terra, con l'interno della terra e col potere del sole e delle fiamme. E adesso Capricorno che ha vantaggiato chiaramente non solo da sole e Plutone, ma tra l'altro sono gli ultimi colpi di Plutone in Capricorno perché poi il 24 passa. in Acquario per i prossimi decenni, oserei dire per i prossimi vent'anni. Quindi, beh, lascia quasi definitivamente il Capricorno. Allora, Urano e Giove sono in Toro e vi sono amici perché aiutano i segni di terra, ma il 31 Giove torna diretto. Quindi, finalmente, quella corda ipotetica che ci stava trattenendo tutti, soprattutto in Toro, ma tutti indietro, con Giove retro, adesso viene tagliata. Quindi andiamo finalmente, torniamo tutti ad andare avanti. Quindi un 2 e 24 che si apre con lo scoppiettio di questo Giove torna diretto in Toro. Quindi, facciamo largo al benessere, facciamo largo alle cure, facciamo largo alla famiglia, alla cura della famiglia, facciamo largo anche al nostro benessere fisico. Ok? I nostri rapporti con genitori, familiari. Allora, questi segni di terra, sempre dalla vostra parte, Capricorno, abbiamo Nettuno e Saturno, che sono in pesci. Venere è in Scorpione, ma fino al 28, perché il 29, quindi vi aiuta anche la Venere, quindi guardate che è in legge positiva che vi arriva. Ma il 29, venere passa in Sagittario, quindi nella vostra dodicesima casa, e raggiunge Marte, e raggiunge Mercurio retrogrado. Quindi grande forza per questo Capricorno, che non ha pianeti opposti, tranne questa settimana, proprio il 27, a mezzanotte e mezza, si forma un plenilunio, che è effettivamente un'energia antipatica per il Capricorno, perché è in opposizione. Questo non significa che chissà succede qualcosa di male, no, semplicemente un'energia tosta. Plenilunio in Cancro, questa settimana, il 27, alle 12 e mezza circa, mezzanotte e mezza, ok? Allora, Capricorno, mi vieni col tuo arcano maggiore, in queste carte, il tuo arcano maggiore che è il diavolo, ma mi vieni imprigionato, imprigionato da passioni, imprigionato da pensieri, imprigionato da qualcosa da cui non riesci a liberarti. Andiamo a vedere effettivamente qual è la tua energia. Energia interna. Il 4 di bastoni, energia esterna. Il 6 di denari, il 5 di denari, grande mancanza. Mancanza economica potrebbe essere quella che è un tarlo in questo momento per te. O mancanza d'affettiva. C'è questo 4 di bastoni e guarda caso, ho preso le carte che erano cascate, hanno anche questo il 4 di bastoni sotto. Quindi direi che effettivamente c'è un matrimonio, ho un rapporto stabile, che è veramente stabile la vostra mente. Ma avvertite la mancanza di qualcosa. Adesso andiamo a vedere che cosa. Però, ripeto, è molto stabile la nostra mente. Non escludo per qualcuno le fiamme gemelle. Vedremo 10 di spade. Imperatrice. Erano cadute, quindi mettiamolo dritto. Cavaliere di spade e cavaliere di corte. Quindi c'è una parte vostra razionale e una parte invece sentimentale. Devo dire che qui c'è molto il senso del rapporto, della creatività, della nascita. E anche di un senso di dolore, quasi di tradimento, nei confronti o da una persona che potrebbe essere una madre, una figlia, insomma. Questi sono i rapporti soprattutto privilegiati questa settimana per il capricorno, ma non solo, chiaramente. C'è il senso di voler mettere radici, di voler creare qualcosa di solido, ma come se non ci si riuscisse in questo momento. Siamo all'inizio di questa creazione. Se ne rende conto anche il capricorno, che dopo... Però è come se si... C'è un capricorno. Guardate che ci caso, vi faccio vedere. Che è quasi ingabbiato. E l'avamo visto anche lì la gabbia, no? È quasi ingabbiato. Ingabbiato nei confronti di un rapporto con una madre o ingabbiato nei confronti di un rapporto che deve crescere, che sta per crescere, ha quasi paura di mollarsi. Questo voi sapete. Dobbiamo anche dire che c'è il visionario qui, quindi c'è da parte del capricorno tanto sogno. Qui abbiamo il visionario e qui il sognatore. Tanto sogno, sta tanto sognando. Ci sono dei... Magari ci sono effettivamente, con questo plenuno al contrario, non è scuso che possa fare dei sogni. Non lo mettiamo in dubbio. Però è come se... Quello che sta sognando il capricorno è creare qualcosa di stabile. Creare qualcosa di solido. Ok? È proprio la creazione di qualcosa di solido. Nel contempo, però, si sente la mancanza di un certo equilibrio, se lo devo dire io. O la mancanza di qualcosa di solido. Può essere una mancanza economica, può essere di un affetto, di qualcuno che in ogni caso ci dà solidità. Ok? Il 6 di denari esternamente mi dà ancora il 4 di bastoni. C'è questo senso. Il 6 di bastoni, il 3 di coppe, questa carta che non c'entra nulla qua e che è il 2 di coppe. In queste carte che si sono mischiate. Ed è bello che è il 2 di coppe. Adesso c'è pure il pagino di denari, di tutto. Rimischiamo un attimo qui. Vediamo qual è il fondomazzo. Beh, chi guarda. Esternamente c'è ancora questa situazione stabile. Io credo sia il momento in cui il capricorno stia creando una situazione stabile in cui c'è equilibrio tra il dare e l'avere. Però questa situazione in qualche modo è come se la stesse a guardare dall'esterno. Non riesce a immergersi all'interno di questa situazione. È come se stesse dall'esterno, ingabbiato in tutta una serie di credenze, di mancanze, di pensieri negativi. Anche se non ci sono poi i pensieri negativi. Ma c'è il pensiero del tradimento che è molto forte. Quindi siete ingabbiati in voi stessi. La mia sensazione è che voi siate assolutamente ingabbiati in voi stessi. Mentre invece le carte mi parlano di situazioni che sono molto belle e che potrebbero essere trionfanti. Soprattutto situazioni stabili che affondano radici, che hanno un tetto, nel senso di proprio solidità. Andiamo a vedere adesso qual è la settimana. Quindi vi manca la stabilità. A qualcuno di voi manca questa stabilità. La sta creando ma la crea perché manca. Allora, vediamo un attimo come è stasettimana Capricorno. La papessa al contrario. Il quattro di spade. L'eremita. Il due di spade. Il papa al contrario. La temperanza al contrario. Nonostante le carte fossero belle, avevo avuto la percezione che qualcosa non andasse. Peccata di superficialità. Non volete andare nel profondo. Perché avete paura dello stress. Avete paura di... È come se voi aveste paura di riposare. Perché riposando in qualche modo vi sfuggisse qualcosa. Quindi preferite planare sulla superficialità delle cose piuttosto che andare nella profondità e ascoltarvi. Eppure c'è bisogno di riposo perché siete particolarmente stressati secondo me. Ora, l'eremita mi dice che siete alla ricerca di risposta e che le risposte le potrete avere questa settimana. Potreste averle questa settimana. E a questo punto dovrete cercare di capire qual è la risposta che dentro di voi risuona maggiormente. Chiudere certe situazioni, aprire certe situazioni, rimanere in stallo. In ogni caso c'è una sorta di pace ritrovata, di equilibrio ritrovato per certi versi. Fine settimana vi vedo un po' più vulnerabili. Ve lo devo dire. Potreste essere troppo chiusi nelle vostre idee. E questo vi rende vulnerabili perché quando siete chiusi, ingabbiati, come avevamo visto qui, in certe situazioni o idee, questo vi rende assolutamente vulnerabili agli attacchi degli altri. Perché se qualcuno ha una idea diversa da voi, entrate in conflitto. Infatti, infatti, la temperanza al contrario mi parla di conflitti, mi parla di discordia, di instabilità. Quindi c'è un equilibrio che nella situazione esterna va benissimo. Però dentro di voi no. È dentro di voi il problema questa settimana capricorno. Qualcosa che vi manca e a cui non sapete dare il nome, secondo me, in questo momento, minaccia di non farvi stare bene. Nonostante ci sono le premesse, le premesse invece per stare bene. Quindi muovetevi con cautela in questo senso di mancanza. Perché potrebbe essere che invece siete voi che non riuscite a uscire dai vostri, tra virgolette, asseminati per paura. Ora, non è che vi manchi qualcosa. Siete voi che non riuscite ad andarmelo a prendere o a riconoscerlo. Comunque devo dire che potrebbe essere molto forte il senso delle fiamme gemelle. Oppure di unioni che hanno a che fare con matrimonio, con rapporti soldi. Soprattutto le unioni, devo dire, più quelle che hanno gemelle. Vediamo qual è la carta. Sono confuso. Ma non avevamo dubbi. No, queste carte rispondono sempre al tono delle ho create io e quindi rispondono sempre. Sono confuso. Avremmo visto che c'era un po' di confusione. Questa confusione vi porterà a essere a volte un po' troppo, non dico petulanti, ma testanti. Vediamo qual è la verità nascosta nel capricorno. Ritrovare, trovare, capire qual è la verità che mi ha fatto male. Quindi c'è, come vedete, abbiamo ancora questo senso di verità nascosta che deve venire fuori prima o poi e che è andata in contrasto con voi. C'è una verità dentro di voi che è in contrasto con quello che fate. Quindi state attenti. Che fate o dite. Vediamo qual è il dritto. È interessante perché abbiamo il sole e l'iceberg. Il sole ci parla di ottimismo, di radiosità. L'iceberg ci parla di questioni sommerse. Quindi ancora una volta, ancora una volta, abbiamo questo senso di una situazione che è positiva, ma voi, dentro di voi, nel sommerso, c'è qualcosa che non esprimete e che vi sta logorando. Non è proprio la parola giusta, ma vi sta infastidendo. Ecco, facciamo così. Vediamo qual è la carta della guarigione per il Capricorno. L'amore. L'amore vi guarirà. L'amore è quello che vi guarisce. L'amore è quello che vi guarirà. L'amore è quello a cui dovete appigliarvi per poter uscire fuori da questa gabbia che abbiamo visto fin dall'inizio. Siete ingabbiati in paure, fobie, fobie di essere traditi, fobie di non farcela. L'amore è quello che vi guarirà. Ok Capricorno? Mi raccomando, questa è la tua settimana. Il sole è dalla tua parte, quindi lascia stare tutti i pensieri negativi, se ne hai. Fai il fuori uscire. Butta fuori tutto quello che di negativo pensi di avere, via. Ottimismo alla grande, buon Natale, ci vediamo la settimana prossima. Bye bye.